Parliamo del quindicesimo festival della fotografia e quindi passo la parola a Marco Lovato. Grazie al suo intendente Claudio Valenti Presic, ci conosciamo da tantissimi anni, da due o tre anni presentiamo questo festival insieme. La quindicesima edizione del festival è molto dedicata a Roma per tantissimi motivi, la coincidenza del duecentesimo anniversario della pubblicazione del primo volume di Greco, ma più che altro perché forse anche per il fatto che da poco tempo abito fuori, però è quindi da Roma con una luce diversa, penso che questa città merita tantissimo. Questo festival insomma non è un festival, ha un grandissimo budget per usare un grande euronismo. Ed è più che altro l'arte dove il rapporto tra chi la vede e chi la fa è il rapporto più ravvicinato. E anche questa è una delle cose così importanti della fotografia. Noi abbiamo fatto questo festival mettendo insieme tutte e quattordici più due, perché ci sono stati due anni dove ci sono state due commissioni di Roma che c'erano in una, e abbiamo fatto la prima grande mostra collettiva dove ci sono tutti i progetti. e quest'anno abbiamo dato quattro commissioni di Roma. Una la vedete entrando qui in sala conferenza stampa, in sala rossa, è perché è la baracca di Valle, quindi adattandoci a altri linguaggi e rapporti. Penso che ripartire da qui, riaffermare una forza viviva incredibile e un'intera di Roma sia un omaggio a questo posto che appartiene a molti di noi e che se lo merita è solo strumento. Grazie. Grazie.